Chi soffre di mal di piedi sa bene cosa vuol dire indossare le scarpe sbagliate. Anche Papa Francesco ne sa qualcosa perché da oltre 40 anni indossa le stesse calzature realizzate a mano da un'azienda di Buenos Aires specializzate in scarpe ortopediche. Eppure essendo Papa, Francesco continua ad indossarle, nere, compara spesso ai modelli evidentemente medico piuttosto che da cerimonia. Lo spiega l'argentino Carlos Samaria, nulla di grave gli è andato giù il metatarzo. Quindi questo è. E si scopre anche che tipo di cliente sia il Papa. Non è un buon cliente, racconta l'amico. Samaria, non vuole mai scarpe nuove, un paglio gli dura 4 anni, gli piace camminare con quelle vissute. Ecco che allora però il sogno di un neogubino sembra essere di difficile realizzazione. O no? Infatti Diego Anastasi è stato intervistato dalla rivista Visto per raccontare la sua passione nel realizzare scarpe su misura. Scarpe realizzate a mano e personalizzabili, pensate per ogni piede e ogni esigenza, pensate anche per plantari, di alta qualità ancora prima che di lusso. Scarpe che stanno trovando mercato in tutta Italia, scelte per ultima anche da Elisabetta Gregoracci. Scarpe che soprattutto stanno rappresentando una sfida imprenditoriale made in gubbio. E allora perché no per Papa Francesco? Anzi, ecco perché sì. Io ho risposto Papa Francesco proprio perché lo trovo un Papa umile come il nostro prodotto. Nel senso è un prodotto dove ti devi inginocchiare per prendere le misure e quindi dai l'umiltà a chi ti sta davanti. È un prodotto che con il prezzo siamo molto competitivi a tutti quelli che fanno lusso vero e proprio. Ho rivisto in questa persona un'umiltà dove si ritorna anche a un'umiltà lavorativa. E quindi il connubio è stato questo, a prescindere dal problema dei piedi o che sia. In questo momento di crisi economica congiuntale a livello mondiale c'è però chi, come te, ha voluto puntare ad un progetto imprenditoriale, un progetto che sta riscuotendo successo, che riporta proprio al lavoro fatto a mano, all'artigianalità. Come sta andando? Benissimo, benissimo ma con tanta fatica perché il progetto è stato sviluppato cinque anni fa perché penso che la crisi economica sia anche un bene, è una parola brutta, però sia anche un bene perché fa riscoprire chi veramente ha voglia di lavorare, chi veramente ha le capacità di lavorare, la nostra idea è stata quello di produrre un servizio e non una scarpa, quindi non un oggetto ma un servizio vero e proprio dove non è la vendita il maggior scopo di tutto ma è l'emozionalità che tu puoi creare al cliente, ovvero gli vai dentro casa, lui non ha tempo, si sente servito, riverito, ti inginocchia i suoi piedi, prendi le misure dei suoi piedi, ti racconta tutti i suoi difetti, si crea la scarpa virgola per virgola, quindi parliamo che quante virgole possono esserci su una frase? Tantissime, quindi virgola per virgola, ovvero tutti i dettagli che lui vuole, che dice oh ma io non l'ho mai trovato, riusciamo a fare questa cosa?